Il primo vero controesodo della stagione estiva è alle porte. A partire da domani, venerdì 18 agosto, giornata da bollino rosso, la rete autostrade alto adriatico sarà attraversata da migliaia di turisti di ritorno dalle ferie nelle coste croate e di lavoratori, originari dell'est Europa, che faranno rientro nel nord Italia. Porta d'ingresso, nella maggior parte dei casi, sarà la barriera di Trieste e l'Isert. È lì che potrebbero verificarsi sabato 19, giornata da bollino nero, le maggiori criticità e sulla base dei dati storici, a cui va aggiunto il maggior afflusso di transiti durante l'esodo, sabato scorso più 5%, domenica più 8% rispetto al 2022, che si ipotizza per questo sabato il transito di circa 28.000 veicoli in ingresso all'Isert. Complessivamente saranno tra i 185.000 e i 194.000 i mezzi che transiteranno lungo l'intera rete di autostrade alto adriatico. Il traffico si svilupperà lungo la carreggiata ovest, quindi lungo la direttrice che da Trieste porta a Venezia, con code e ralentamenti che potrebbero crearsi anche in prossimità degli svincoli verso le località balneari, per gli ultimi accenni di esodo e per effetto del turismo pendolare, e in prossimità dei cantieri per la costruzione della terza corsia. Domenica 20 sarà giornata da Bollino Rosso, con quasi 180.000 transiti previsti. Ancora una volta il Isert sarà osservato speciale, con altri 27.000 transiti previsti e probabili formazioni di code in ingresso alla barriera. I mezzi pesanti non potranno circolare dalle 8 alle 16 di sabato e dalle 7 alle 22 di domenica. Autostrade alto adriatico rinnova l'appello a osservare i limiti di velocità, a mantenere le distanze di sicurezza dai veicoli che precedono e a non utilizzare i dispositivi elettronici alla guida.